Per parlare di accordo nazionale agenti e di relazioni in generale tra agenti e compagnie basta partecipare agli eventi organizzati dal sindacato nazionale agenti e ai consessi statutari. Lo SNA da due anni svolge sul territorio un tour nel quale fa intervenire i massimi esperti della materia e parla di accordo nazionale agenti e delle principali caratteristiche di questo accordo quadro che regola i nostri rapporti di agenzia. In più la trattativa con l'ANIA per il rinnovo dell'accordo nazionale agenti come si sa, come è noto, come sapete benissimo è ferma su alcuni elementi essenziali sui quali lo SNA non è disposto a rinunciare o a concedere sconti a nessuno. Per questo è incagliata la trattativa, nessuno ha la ricetta magica in tasca e nessuno ha prodotto delle possibili soluzioni per sciogliere questi nodi che sono sostanzialmente tre. Il primo, i dati. Sapete benissimo che tra lo SNA e l'ANIA c'è una differenza di vedute sulla proprietà, la titolarità del trattamento dei dati dei clienti agenziali. Su questo lo SNA non è disposto a concedere sconti. Due, le indennità di fine mandato. Lo SNA parte dal presupposto che le indennità non possano essere rinegoziate a ribasso e parte dall'ulteriore pregiudiziale che è il mantenimento, la garanzia, la tutela dei diritti acquisiti. I diritti acquisiti ad oggi dagli agenti non si toccano. Anche su questo lo SNA e l'attuale dirigenza dello SNA non è disponibile, non è disposto a concedere sconti. Terzo punto, le rivalse. Sappiamo benissimo che gli agenti subentranti, i giovani, non ce la fanno a pagare delle rivalse che a volte hanno un'entità abnorme rispetto alla redditività delle agenzie. Non siamo però disponibili a passare a una riduzione delle rivalse che comporti la riduzione delle indennità. Secondo noi le compagnie devono dimostrare di sapere investire nelle reti agenziali e quindi devono farsi carico, intendo, con un apporto economico al ricalcolo delle rivalse che sia proporzionato e rapportato all'effettiva redditività dei portafogli che vengono appaltati. Questi sono i principi cardine sui quali lo SNA scommette il futuro della categoria. Ecco, se qualcuno ha delle idee che possano contribuire a migliorare questi studi, queste elaborazioni dello SNA, li produca, li renda trasparenti, li mette a disposizione della categoria. A me risulta che ad oggi lo SNA, Sindacato Nazionale Agenti, sia l'unica sigla che ha prodotto una piattaforma rivendicativa all'Anea e sia l'unica sigla che ha prodotto delle soluzioni tecniche per superare queste criticità. Non c'è nessun'altra sigla, nessun'altra organizzazione, nessun altro evento culturale, nessun'altra aggregazione culturale o sindacale che abbia prodotto nessun consiglio, nessuna soluzione, nessuna via d'uscita per superare queste problematiche. State vicini allo SNA, dateci una mano. Non negli organi statutari, nelle riunioni sul territorio dello SNA, apportate quanto potete apportare per fare in modo che la categoria sia unita nel tutelare e difendere il presente e il futuro degli agenti di assicurazione. Vedrete che prima o poi le compagnie capiranno che un eventuale rinnovo dell'Ana passa necessariamente da queste condizioni. Diversamente, come ho sempre detto, ci teniamo l'Ana che c'è, perché non siamo disposti a negoziare per un'Ana, per un futuro, peggiore di quello che abbiamo oggi. Mi sembra una regola basilare e sulla quale non ci sia tanto da discutere. Grazie dell'attenzione.